La stagione teatrale 2019-2020 del Teatro Traetta di Bitonto ha aperto ufficialmente i suoi battenti con la conferenza stampa che ha riunito i vertici del Teatro Pubblico Pugliese e dell'amministrazione comunale bitontina. Una conferenza che ha visto e che ha sottolineato ancora una volta l'importanza della partnership anche nelle parole del sindaco Michele Baticchio, notevolmente soddisfatto per qualità degli spettacoli in cartellone questa stagione e che spazieranno totalmente dall'ambito classico ai riferimenti dei grandi successi cinematografici portati in scena sul palco. Sì, sono stato molto contento perché secondo me è un mix giusto, abbiamo recepito un po' di osservazioni da parte dei nostri abbonati e anche dei critici che ogni anno abbondano, ma noi acquistiamo sempre le critiche in termini positivi. Credo il giusto mix tra trasposizioni cinematografiche a teatro, trasposizioni teatrali di opere cinematografiche e classici anche teatrali. In particolar modo credo che l'inaugurazione di questa stagione con Enzo De Caro, con Non è vero ma ci credo, sarà apprezzata da molti bitontini perché amiamo molto De Filippo, è proprio nella nostra natura culturale, ma anche la menzogna con Serena Autieri credo che sia, noi siamo particolarmente soddisfatti di avere finalmente Serena Autieri altra etta e fallita l'operazione diverse volte. Poi una coppia credo da urlo, cioè Vinicio Marchionni e Giuseppe Zeno, insomma io mi vergognerò di presentare lo spettacolo se mi capiterà vicino a loro perché a parte l'aspetto estetico non sono veramente attori eccezionali, soprattutto Vinicio Marchionni abbiamo apprezzato a una serie di romanzo criminale ma anche in tante altre opere cinematografiche e poi tra punto di stanza, insomma ce ne sono tante, sono molto contento. Anche il presidente del teatro pubblico pugliese Giuseppe Durso ha sottolineato quanto importante sia per i vari comuni della nostra regione investire fondi nell'ambito della cultura e Bitonto è uno di quei comuni virtuosi che ha deciso di attuare questo tipo di iniziativa in maniera tale ancora di più da poter diffondere a livello completo la cultura dell'arte e dello spettacolo. È una bella scoperta per me che non sono di Bitonto e da quello che capisco insomma c'è non solo una bella stagione teatrale ma c'è un bel programma culturale tra musica, danza, beat talk, avere una città molto attiva, c'è un bel fermento, mi fa molto piacere. Poi la stagione di primo ordine tra teatro contemporaneo e teatro classico ci sono poi interpreti eccezionali. Un bellissimo programma e poi non lo dico come ho detto prima perché lo devo dire, ma un'amministrazione, un sindaco che fa una scelta anche coraggiosa di questi tempi va sicuramente apprezzato. La rassegna di prosa è stata definita regina anche dall'assessore Mangini in quanto il traetta ne ospita altre sette tra teatro ragazzi, danza, comico e amatoriale. Quest'anno, lo dicevamo poc'anzi, abbiamo otto stagioni teatrali, oggi abbiamo presentato la stagione regina, la stagione di prosa e musica, quella cosiddetta degli abbonamenti per intenderci, sono sette spettacoli più due anteprima già realizzate, tutte o tutta la stagione incentrata sui classici. Abbiamo Pirandello, De Filippo, abbiamo Plauto, insomma abbiamo il fior fior del teatro, della storia del teatro ma anche del cinema con due trasposizioni teatrali come i soliti ignoti, un cinema italiano e l'attimo fuggente che diciamo è un calta anni 90 che tutti ricordiamo. Una menzione a parte anche per la fita, il teatro amatoriale che quest'anno farà parte del cartellone del teatro traetta. Nelle parole della presidentessa Anna Maria Carelli il ricordo anche per Anna Damone, una nostra attrice che è recentemente scomparsa.